Vincent, vuoi sentire la mia barzelletta di Volpi Forza 5? Volentieri, solo che veri sono ancora troppo terrorizzato per ridere. No, non riderei perché non è divertente, ma se ancora la vuoi ascoltare te la racconto. Non vedo l'ora. Ok, tre pomodori camminano per la strada, papà pomodoro, mamma pomodoro e il pomodorino. Il pomodorino cammina con aria svagata e papà pomodoro allora si arrabbia e va da lui, lo schiaccia e dice, fai il concentrato. Il concentrato. Bene, ci vediamo. Grazie.